Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi faccio il primo di una miniserie di video, che saranno appunto due video, due appuntamenti regolari in cui vi mostrerò in questo primo video i regali che ci siamo fatti per Natale leggermente anticipati e le vedete qua sotto e il secondo video invece sarà tipo i giochi che vi consiglierò io per farvi un bel regalo di Natale 5 giochi in assoluto più consigliati e qui davanti vedete tutta la roba che ci siamo fatta come regalo ora vi vado un po' a spiegare la storia di tutto quanto ma ve ne parlo a breve come sempre, dopo la sigla Il primo è Twilight Imperium, terza edizione della Fantasy Flight Games edizione inglese però con un manuale stampato in italiano fotocopiato trovate la quarta edizione dell'Asmo d'Italia quindi c'è già un'edizione successiva perché questa dovrebbe essere abbastanza vecchiotta insomma questa secondo me è almeno un set 8 anni ce l'ha di sicuro forse anche qualcosina in più comunque questo gioco, vi racconto anche come ne siamo venuti in possesso se l'abbiamo comprato e quant'altro questo gioco qualche giorno fa sul market di Facebook che non ve lo dovrei dire però ve lo dico, ve lo consiglio proprio da micone ragazzi guardatelo regolarmente tutti i giorni il market di Facebook che molti di voi tra cui anch'io fino a qualche mese fa non sapevo nemmeno dell'esistenza andate a vedere perché a volte si trovano delle offerte disumane e c'era un tizio di Livorno e io come sapete sono di Livorno che ha scritto un post cercava, non vi dico con che gioco lo voleva scambiare uno dei miei l'ho scambiato non vi dico ne intanto però cercava questo gioco che a me era piaciuto abbastanza ma non aveva un grandissimo valore e ha detto scambio questa edizione con quel gioco questa edizione io la cercavo da una vita ma anche la quarta uguale però è capitata la terza sicché mi sono trovato dal vivo con questo ragazzo gli ho dato un gioco in cambio senza spendere soldi senza fare permute o conguaglie vari e ho avuto finalmente Twilight Imperium Twilight Imperium non voglio fare un video lunghissimo perché c'è da presentare anche altri giochi è il gioco 4x secondo me più famoso, più iconico e più bello a livello di board game perché ragazzi è veramente il classico gioco 4x conquista, espandi, distruggi, exterminate è di una bellezza disumana poi ci farò un video dedicato e avete tutta una galassia da conquistare da contendervi con dentro la bellezza di più di 300, 300, 320 miniature in plastica che rappresentano basi, flotte e anche ovviamente vari tipi di flotte per la fin fine navi da guerra, caccia e cose varie se cercate un gioco 4x questo è assolutamente il migliore che potete trovare lati positivi e negativi ci farò una recensione forse quello negativo quello positivo ve l'ho già detto quello negativo che vi ci vuole tanto tempo quindi un gioco del genere preparatevi a portarlo avanti in 2-3 giorni non vi aspettate di finire una partita in un giorno a meno che non ci stiate 8-10 ore il secondo gioco che vi presento il piccolino ma nemmeno tanto è il Betrial at the House on the Hill che volevo da una vita e questo si trova su Amazon ma senza bisogno di Black Friday si trova già a un 40-45 euro con 20 euro in più prendete anche l'espansione Widowalks che espande proprio la casa con nuovi tali di gioco e nuove situazioni questo è un gioco che io adoro perché mi fa ricordare Brivido un po' l'idea quella lì fondamentalmente per quanto un po' elaborata espansa ed è spettacolare perché voi siete un gruppo di avventurieri gente comune alla fin fine in entri particolari che entrate in questa vecchia casa antica sulla collina per andarla ad esplorare e risolvere un po' i misteri che ci sono dentro ed è bello perché parte come un gioco in cui dovete costruire mano a mano la casa ci farò un video a parte anche di questo full cooperative quindi siete un gruppo di avventurieri di amici che entra lì dentro e a un certo punto ci sarà una fase Omen in cui si risveglieranno gli spettri uno di voi o magari anche due dipende dalla missione dal librettino cosa vi dice il narrativo verrà corrotto ed a quel punto che verrà corrotto solo lui dovrà leggere il traitor book perché saprà cosa fare a quel punto voi saprete che ci sarà un giocatore che remerà contro il gruppo voi dovrete o ucciderlo o scappare dalla casa e lui vi dovrà fermare ragazzi è un gioco veramente molto molto interessante se vedete girare una codina nera perché c'è la gattina Morgana che gira sempre il terzo gioco che vi presento sempre andando sui 45-50 euro su Amazon e vi consiglio da morire perché questo è anche un video di consiglia alla fin fine è Relic della Giochi Uniti edizione italiana ah prima ho dimenticato di dire che B-Trial si trova solo in inglese non l'hanno mai tradotto però se andate su qualche sito tipo Latane e cose del genere trovate il regolamento completamente tradotto questo Relic non vi sto nemmeno a presentare l'ambientazione di Warhammer 40.000 ha una componentistica bellissima e ragazzi è Talisman in Warhammer 40.000 quindi vi ricordate Talisman gioco preferito mio e di mia moglie tra tanti ci garba veramente al pari di Heroquest questa è la versione Warhammer 40.000 laddove invece che il classico guerriero il mago l'arciere andate a interpretare una Startes o anche una Deptas Ororitas ad esempio oppure un assassino del culto Callidus un inquisitore del Lord Oxeno insomma le classiche figure tra l'altro le miniature sono dei boosti fatte veramente benissimo meglio perché invece di fare una miniatura piccina che si vede poco hanno fatto un mezzo boosto fatto veramente da paura che poi vi faremo vedere in un video dettagliato comunque anche questo ragazzi è Talisman l'idea è sempre quella che partite da un cerchio esterno passate il warp fino ad arrivare nella zona centrale con la reliquia un po' come Talisman e cercare appunto di portare a compimento la missione e questa addirittura sempre dalla giochi uniti due espansioni sulle spalle una che inserisce il pvp che nel gioco base non c'è e la seconda invece che vi porta direttamente nel nostro sistema solare per combattere su pianeti famosi come quello dell'Adeptus Mechanicus Marte o anche sul pianeta Terra quindi stramega consigliato non solo per gli amanti di Warhammer il quarto gioco che vi voglio presentare è Dark Souls il gioco di miniatura insomma Kickstarter famosissimo della Steamforged e questo l'ho trovato da un ragazzo che ha messo un'offerta sempre su Facebook e ha scritto 50 euro comprese spedizioni postali ora l'edizione che vedete qui davanti in inglese cioè completamente tradotta in italiano però vabbè trovate il regolamento in italiano sempre su siti tipo Latane e cose del genere quindi non è un problema o anche fotocopiati e qui l'ho visto ha scritto 50 euro comprese spese postali 80 euro comprese spese postali con l'espansione che vedete qui davanti Dark Root che inserisce praticamente Sif e Lupo il suo proprietario il cavaliere Artorias e tutto il resto i funghi vi ricordate i golem le statue giganti ora non c'è bisogno di presentazioni un gioco ispirato alla saga appunto al videogioco però 80 euro ragazzi gioco questa costa 50 euro che vedete qui davanti andate a vedere su Amazon 50 euro il gioco base è 120 in italiano va bene non lo è però diciamo 120 150 160 in tutto pagato 80 euro comprese le spese postali che fai glielo prendi l'ho fatta anche per fare un regalo a mia moglie che è fanatica e vi dico una cosa consiglio d'amico se ne parla bene o male di questo gioco ad esempio qui sul server ne hanno parlato molto bene la tana dei goblin un po' meno insomma sono versioni contrastanti ma è normale insomma a qualcuno può piacere a qualcuno altro no è vero una cosa che dicono la tana dei goblin gli do ragione che poteva essere fatto molto meglio a livello di regole il videogioco è una cosa ho capito che vuoi fare un board game uguale al videogioco però il board game non può avere le meccaniche nel videogioco le devi un po' sottigliare e qui rischiate di morire e rifare la stessa cosa cento volte come nel videogioco non calza molto bene però comunque il cosa ne penso lo farò a parte e mi trovo d'accordo con la valutazione della tana e se non era anche Tom Sardware disse qualcosa del genere però comunque è un gran bel gioco e ad un prezzo del genere come l'ho acquistato io ragazzi non c'è delle miniature così dentro ci sono delle action figure grossi o sì c'è Siff e Lupe così con la spada in bocca poi ve lo farò vedere quindi acquistatelo se siete fanatici anche soltanto per le miniature e a 80 euro uno poteva far scappare comprese le spese postali e l'ultimo che mi ci prenderà ora un'ernia a tirarlo su è Necromunda Dark Apricing che ci è stato fornito dal nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola che trovate in primo link in descrizione in sovraimpressione e io ringrazio veramente di cuore perché ora è tanto che si sta collaborando e lo ringrazio per averlo avuto appunto in omaggio Necromunda Dark Apricing è la nuova edizione di Necromunda che è un gioco comunque anni 90 vi ricordate era con lo scenario modulare lo potevate montare a seconda della missione molto differentemente anche per unire pezzi le mure esterne le potete montare in una certa maniera le basi le torrette era una cosa che l'andava un po' a contraddistinguere rispetto a tanti altri giochi della GV però è bello perché è ambientato sul pianeta Necromunda in cui ci sono queste bande che si danno battaglia quindi dimenticatevi i sistemi solari dimenticatevi la guerra dell'imperium nell'universo conosciuto l'imperatore no qui sono battaglie in un pianeta formicaio che appunto è Necromunda fra bande per la conquista del territorio e questa scatola qui che vedete qui davanti dovrebbe essere fuori produzione ma comunque mandate una mail alla giocollibrile semola ditele che arrivate dal canale di Coridan tra l'altro vi ricordo sempre come vedete insomma ho l'impressione di usare il codice discount Coridan 7 per avere uno sconto del 7% perché era l'ultima copia che aveva in negozio però forse ancora ordinabile da Zitola GV c'è anche la versione Underive questo costa 220-240 la versione Underive che non ha assolutamente scenario solo il game mat costa 120 quella si trova in italiano questa non è mai stata tradotta è solo in inglese ne costa 220-240 però ragazzi ha uno scenario dentro che ve lo farò vedere montato questo tavolo dell'IKEA lo prende tutto cioè lo scenario che c'è dentro piglia tutto il tavolo dell'IKEA e ripete modulare quindi lo potete montare come vi pare a voi ed è uno scenario perfetto non solo per Necromonda ma anche perché no per giocare proprio a Warhammer 40.000 ora vi faccio vedere un pochino così c'ho due bande dentro che sono gli accoliti del culto di Korn i Carnibali e quest'arte dovrebbe essere una specie di forze governative o comunque polizia del mondo del formicaio del pianeta di Necromonda ed è molto bella ragazzi è una scatola piena zeppa di contenuti le edifici che sono dentro che poi tutta quanta roba puramente industriale si possono montare anche per avere una cosa più stretta ma più alta cioè uno scenario alto così oppure lo allargate appunto in larghezza ed è uno spettacolo perché è un po' come Kill Team Necromonda vi dovete fare la vostra banda dovete scegliere i vostri modelli ci sono le schede per segnare quando passano di livello le ferite mortali e quant'altro è una specie di Mordaim in ambientazione Warhammer 40.000 ma solo ambientata in questo pianeta e questo è l'ultimo regalo che ci siamo fatti concludo questo video dicendo che vi ho fatto vedere un po' i regali che possono anche un po' di consigli per l'acquisto ho detto sinceramente se fosse roba troppo di nicchia noi ve l'avrei nemmeno fatta vedere ci chiediamo veramente tanto se volete ordinare i board game che avete visto dal sito Get Your Fun secondo link in descrizione e ora in sovimpressione al miglior prezzo sul mercato e se qualcuno dei board game che vi ho fatto vedere non ce l'ha la roba della GV ma dei board game che vi ho fatto vedere non lo trovate se volete al supporto guarda arrivo dal canale di Coridan questo gioco ad esempio Dark Souls si può avere che non ce l'avete in lista faranno il possibile per trovarvelo se possibile ovviamente e al miglior prezzo sul mercato il miglior prezzo assolutamente più competitivo io vi saluto fatemi sapere un pochino se ne pensate e insomma se fatto un bel po' di acquisti più Dark Apprising che ci ha fordito appunto lo gioco libreria Semola ciao ragazzi alla prossima